I saluti della città di Foggia, che ho l'onore e l'onore di rappresentare, perché penso che queste siano delle occasioni per lanciare dei messaggi chiari, al di là del mio convincimento ideologico e anche dei miei valori, ma penso che noi dobbiamo rispettare un dettato della nostra costituzione, quella della libera scelta di consentire anche ai giovani di orientarsi verso culture, pensieri e anche religioni, perché questa è la nostra cultura, quella della pace, della democrazia, del vivere insieme nel rispetto dei valori degli altri, che si tratta di valdesi, di cattolici, di musulmani, io penso che dobbiamo cercare di trasferire questo messaggio di pace, di convivenza. Molte volte si abusa, si fa leva anche della religione per raggiungere degli scopi politici o degli scopi anche estremisti. Io penso che tutte le religioni hanno dentro le proprie corde il messaggio di pace, di convivenza e questo che noi dobbiamo cercare di trasferire, soprattutto ai nostri figli, perché le televisioni lanciano, noi abbiamo uno dei pilastri del giornalismo locale, ma purtroppo lo devo dire con molta amarezza, così come anche messaggi distorti, anzi soprattutto messaggi distorti arrivano dalla politica, poi i media cercano di enfatizzare perché fanno il loro mestiere per catturare, noi catturiamo consensi, voi catturate audience, ascolti e questo mix io penso che diventa oggi sempre più pericoloso perché non si mette al centro l'obiettivo da raggiungere il bene comune, ma si mette al centro di come devo accarezzare la pancia dei miei lettori, di come devo raggiungere l'audience e questo purtroppo diventa dominante rispetto a semmai anche degli atteggiamenti, dei comportamenti responsabili, ma che non ti fanno raggiungere degli audience, non ti fanno raggiungere una cifra elettorale, ma penso che la politica oggi deve dare esempi di serietà, di dire le cose che si possono fare e che non si possono fare e di trasferire soprattutto dei valori e quindi sono qui per trasmettere alla mia città che questa è una città dove il principio della solidarietà, il principio della solidarietà, il principio